Ha chiesto di poter lasciare gli arresti domiciliari che sta scontando a Napoli per poter dare l'ultimo saluto ai suoi due figli e ai genitori Emila Curar, il trentenne rumeno che lo scorso 5 giugno era alla guida del minivan che si è schiantato contro un tir fermo in corsia di emergenza lungo la 1. Ad una settimana di distanza dal tragico incidente è costato la vita a quattro persone, due bambini, una neonata di otto mesi ed uno di dieci anni e a due cinquantenni. Le salme sono state infatti restituite alla famiglia e torneranno in Romania. I funerali si svolgeranno in Transilvania e sono stati programmati per lunedì 15 giugno in modo da consentire al trentenne l'eventuale viaggio. A stabilirlo sarà il GIP del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini. Il trentenne attualmente si trova a Napoli, a casa di uno zio. Lo scorso 5 giugno era partito dalla Transilvania per raggiungere proprio la città partenopea, dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni mesi di lavoro. Attorno alle 14 il drammatico schianto, il trentenne probabilmente sfiancato dalla stanchezza, è andato dritto contro un tir nella piazzola di Sosta. L'uomo ne è uscito illeso, ferita invece la moglie, una delle gemelline ed il fratello, 14enne di Emile. Per lui erano schiattate immediatamente le manette per omicidio colposo stradale plurimo. Dopo la custodia in carcere dei primi giorni, al trentenne era stata concessa la misura meno afflittiva dei domiciliari, dei quali però ovviamente non può uscire se non con una speciale autorizzazione. Il legale dell'uomo ha così presentato la richiesta al giudice, facendosi garante per accompagnare Emile da Napoli e la Transilvania, assicurando il suo rientro in Italia dopo i funerali. In seconda istanza, qualora questo non venisse ritenuto sicuro dal giudice, l'avvocato ha avanzato la proposta che il trentenne venga accompagnato con una scorta di polizia.